Il Comune di Agropoli ha attivato gli infopoint turistici per il periodo autunnale-invernale. Saranno operativi tre punti informativi, dislocati in altrettanti luoghi strategici della città. Queste le postazioni, sede del Forum Giovanile in via Pio X, Palazzo Civico delle Arti in via Pisacane, Casa Comunale in Piazza della Repubblica. L'iniziativa è funzionale alla strategia di sviluppo turistico integrata che l'amministrazione comunale sta portando avanti per accrescere la domanda e le ricadute economiche, attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di incoming. Operazioni queste che verranno favorite anche grazie alla partecipazione a fiere ed eventi promozionali di settore. Si sta investendo nell'offerta di turismo culturale, sportivo, naturalistico, quali segmenti di livello medio-alto che non solo garantisce una clientela qualificata e con buona capacità di spesa, ma soprattutto una clientela attiva in tutti i periodi dell'anno. La nostra, afferma il sindaco Adamo Coppola, è da tutti riconosciuta come una città viva tutto l'anno. Al di là delle presenze turistiche estive, sempre numerose, anche durante il periodo autunnale-invernale riusciamo ad assicurare un'offerta turistica spendibile per tutti, attraverso una rassegna di eventi ed iniziative che valorizzano la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli. Per questo motivo abbiamo attivato gli infopoint turistici, che saranno di riferimento per i visitatori, fornendo una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, oltre ad un supporto delle azioni di incoming. Nel contempo, conclude, abbiamo programmato la partecipazione alle principali fiere di settore per una promozione puntuale del nostro territorio.